E' di oltre 24.000 pillole di medicinali non conformi il bilancio del maxi sequestro messo a segno in questi mesi all'aeroporto dei funzionali dell'Agenzia delle Dugane, Monopoli e della Guardia di Finanza, un'operazione ribattezzata Ghana Trading che è stata portata avanti con una mirata attività congiunta di intelligence con l'utilizzo delle banche dati in uso alle due amministrazioni. E' stato accertato che tra l'Italia e il Ghana si stavano consolidando alcuni traffici illeciti in materia di sicurezza pubblica. Il momento decisivo dell'operazione negli scorsi giorni quando all'aeroporto di Punta Raisi è stata fermata una cittadina ganese. Gli atteggiamenti particolarmente sospetti della donna hanno indotto i funzionali doganali e le fiamme gialle a un minuzioso controllo dei bagagli attraverso l'utilizzo dell'apparato radiogeno in dotazione alla loro successiva apertura. Dopo gli accertamenti è scattato il sequestro di oltre 1.300 pillole medicinali in blister di vario genere e marca, più 2.000 grammi di creme medicinali e 2.000 millilitri di creme cosmetiche sia in tubetti che barattoli, contenenti balsamo e tinture per capelli. La donna è stata segnalata alla Procura della Repubblica per importazione di medicinali non conformi. Nel corso del 2019 sono state denunciate altre tre persone, tutte di nazionalità ganese, e sequestrate un totale di oltre 24.000 pillole medicinali, oltre 23.000 grammi di creme medicinali, oltre 800 confezioni medicinali tra spray e bustine e 91.000 millilitri di creme cosmetiche. Il tutto è destinato al mercato italiano.